Mister, che campionato strano? Una volta si è lepri, un'altra volta cacciatori. In questo momento il Teramo è ancora cacciatore. Noi dobbiamo pensare alle nostre cose. Al di là della classifica, al di là di stare avanti, dietro, noi dobbiamo fare delle prestazioni importanti. Poi questi discorsi sono importanti a maggio, di sperare altri risultati, di stare davanti, però in questo momento dobbiamo essere concentrati su Ancona, che è il prossimo nostro avversario e lo dobbiamo fare con la massima attenzione, con la massima concentrazione, perché è una partita difficile. E' anche vero poi che siete sempre tutti lì in classifica, una classifica che per quello che riguarda le posizioni di testa è stranamente cortissima. Sì, questa è una caratteristica di questo campionato. Io l'avevo previsto a inizio campionato, molto livellato, ci sono dei risultati sorprendenti ogni domenica. Quindi questa è una cosa anche positiva, perché tiene tutti vivi ed è anche un campionato avvincente. L'Ancona non è l'avversario più comodo da incontrare in questo momento, però dovete affrontarlo e possibilmente fare anche risultato al del Conero, che non è cosa facile. Lì ad Ancona hanno perso Ascoli e Reggiana, che sono due squadre di grandissima caratura tecnica e come squadra proprio in generale. Quindi per noi sarà una partita molto, molto difficile da affrontare veramente con grande concentrazione. Troviamo una squadra molto viva, molto motivata e ben organizzata, ci sarà da battagliare. Il borsino dei titolari cosa dice in questo momento per la partita di Ancona? In linea di massima siamo tutti a posto, c'è Inciarelli che ieri si è allenato a parte, come la Padula, però niente di particolare. Quindi saremo, penso se non succede niente oggi o domani, tutti a disposizione. Abbiamo qualche ragazzo che deve riacquistare la migliore condizione, quindi si lavora sotto questo aspetto qui. Però c'è solo da fare delle scelte in positivo. Dal mercato cosa si aspetta? Come ho sempre detto, parlo poco del mercato. È chiaro che vediamo che succede in quest'ultima settimana.